Sindaco oggi è una giornata importante per Isola. Sì, oggi è una giornata importantissima, questo è veramente un obiettivo che abbiamo raggiunto grazie a un durissimo lavoro. Noi dovevamo avere le scuole già a settembre 2017, purtroppo una serie di circostanze, di burocrazia ce l'ha impedito. Si è fatto veramente un duro lavoro di coordinamento con Croce Rosse o comunque con la struttura del Corro Abruzzo e oggi finalmente si mette questa prima pietra. Si è veramente soddisfatti per Isola del Gran Sas, è un vero lavoro che parte dopo il sismo a 2016, è un rilancio ed è per i nostri ragazzi, per il futuro di Isola, che è la sicurezza dei ragazzi che vanno a scuola. L'ultima pietra quando verrà posta? L'ultima pietra, la consegna dei lavori è prevista per il 24 settembre, quindi per l'inizio dell'anno. Speriamo di riaprire qui, in questa struttura nuova.